Le dichiarazioni di Marco Bussetti sui docenti e sulle scuole del Sud rappresentano un fatto politico importante. Per la prima volta del suo insediamento il ministro si trova da solo contro tutti, persino contro i suoi stessi alleati di governo. Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio è arrivato al punto di dire che Bussetti deve chiedere scusa ai docenti del Sud e il suo segretario Salvatore Giuliano, pur senza fare nessun riferimento esplicito, prende di fatto le distanze e afferma che dovunque e ancor più nei contesti difficili i docenti fanno un lavoro straordinario ed eccellente. Il ministro ha cercato di chiarire il suo pensiero ma senza grandi risultati. L'idea espressa, cioè non basta incrementare i finanziamenti, bisogna anche rimboccarsi le maniche, non è piaciuta per nulla ed è stata considerata quasi una provocazione. Poco meno del 90% dei lettori che stanno partecipando al sondaggio della nostra testata sostiene anzi che il ministro dovrebbe dimettersi per le affermazioni fatte. Difficile che questo suggerimento venga accolto dal ministro ma resta il fatto che dopo questo scivolone si può forse affermare che la luna di miele fra Marco Bussetti e il mondo della scuola è conclusa definitivamente. Di qui in avanti la strada del ministro sarà tutta in salita esattamente come è sempre accaduto per tutti i suoi predecessori. Se volete dire la vostra e soprattutto se volete partecipare al sondaggio in corso potete collegarvi con la nostra pagina Facebook e comunque continuate a seguirci perché su questo tema proprio nelle prossime ore daremo anche i risultati del sondaggio stesso